Udinese senza lo squalificato Elveg e gli infortunati Amoroso e Bertotto. Nel Napoli non c'è Baldini, Locatelli in campo per l'Udinese assieme a Cappioli. Aiala, che sa di dover marcare Biroff, trova lo stacco. Qualche polemichetta stizzosa alla vigilia tra Zaccheroni e Galeone. Subito in avvio un errore della difesa dell'Udinese, mette in movimento Prosti che batte da fuori area, tiro molto molto insidioso. L'Udinese appare poco incisiva, Bacchini sulla destra non appare altrettanto efficace come nelle altre partite, qui un tiro di Biroff che finisce fuori. A spazio il Napoli per il suo contropiede, il lancio di Frotti a favore di Bellucci che salta anche il portiere Turci in uscita e porta il Napoli in vantaggio. Tutto questo al 26esimo del primo tempo, molto bravo Bellucci a evitare l'uscita di Turci, vanno il tentativo di Gargo di deviare il pallone. Da qui in avanti l'Udinese comincia ad attaccare con una certa determinazione ma il Napoli è sempre insidioso nelle sue azioni di rimessa. Galeone ha predisposto una formazione che praticamente non è in linea con quelle che sono le sue consuetudini, molto coperta con marcature a uomo, soprattutto quella di Ayala su Biroff. Zaccheroni cerca di correre ai ripari dando indicazioni a Valem, ma l'Udinese è piuttosto spenta, prova Coggi, ma va a infilarsi nell'imbuto dei difensori avversari. Napoli molto molto attento soprattutto nel raddoppio delle marcature. L'Udinese è poco fortunata con questa rovesciata di Cappioli, fermata da Biroff, finisce il primo tempo con i bianconeri in avanti che però non sono particolarmente pericolosi. In avvio di ripresa si rovescia in avanti l'Udinese, subito un'azione goal, Poggi da due passi, splendido, taglia la tela nel riflesso. Galeone comincia a preoccuparsi, ma la sua squadra è molto molto bene organizzata e di tanto in tanto accenna anche a qualche azione di rimessa, qui la conclusione fuori. Cominciano i cambi nelle file dell'Udinese, entrano Jorgensen, è stato al posto di Cappioli e Valem, Udinese sempre in avanti. Bacchini ha un paio di occasioni abbastanza favorevoli, ma non è fortunato e qui oltretutto presume troppo dalle sue possibilità tentando un impossibile pallonetto. Anche nel Napoli avvicendamento, alto mare per Allegri, continua ad attaccare l'Udinese, ma taglia la tela, non è che debba effettuare delle parate particolarmente incisive. Soffre in panchina naturalmente Galeone, altro cambio nelle file del Napoli con Longo al posto di Asanovic, poi alto mare si infortuna in uno scontro con un avversario. Turrini pericolosamente in avanti, un po' in affanno alla retroguardia di Udinese, proprio alto mare dal limite con il suo sinistro, spara a fondo campo non di molto. Poi c'è seconda ammunizione ai danni di Turrini, cartellino rosso Napoli che resta in diecima, l'Udinese non dà l'impressione di poter passare, sono molto farraginose le sue azioni d'attacco. A tempo scaduto, Poggi mette in mezzo un pallone che Locatelli con l'esterno sinistro batte in gol. C'è anche la deviazione sfortunata da parte di Crascon, comunque l'Udinese al 92esimo coglie il pareggio. Rivediamo la conclusione di Locatelli, la deviazione di Crascon 1 a 1 per un risultato che lascia un po' da mare in bocca soprattutto al Napoli che a lungo aveva accarezzato il sogno di poter vincere. Punto d'oro comunque.